Il primo amico importante Ora abbiamo il terzo importante è il ruolo tra la ruota e il driver è l'enginio, e questo è il signor Binotto vorrei presentare a te che è l'ingegnero in engine e ora il gruppo dell'enginio, signor Binotto e magari puoi spiegare un po' cosa fai a fare in carrozzare durante una roma di roma e così via in italiano in italiano durante il weekend sono impegnato a seguire l'affidabilità il corretto funzionamento del motore sulla vettura di Michael e quindi assicurarsi che tutto vada come debba andare ottenere la massima prestazione la massima affidabilità dal prodotto che conosciamo e quindi assieme a lui è importante che noi collochiamo per garantire il corretto funzionamento dell'insieme esatto grazie e ci vediamo per la meeting no no dopo ok ciao ciao ciao